riaccoci studio amici di on race tv vale di cosa parleremo oggi parliamo di un tema molto importante che riguarda i nostri telespettatori automobilisti ebbene come riparare la propria auto quindi la propria amata auto ecco sappiamo che presso le auto officine punto pro possiamo far riparare la nostra auto anche se in garanzia perché eseguono lavori veramente ad hoc si utilizzano solo ricambi originali come il fornitore che abbiamo qui oggi che ci spiegherà tanto ossia bosch assolutamente a tal proposito vi vado subito a presentare fabio marangoni regional production specialist sud europa buonasera buonasera voi oggi ci darei dei consigli veramente utili sia a me che a valentina ma anche a tutti i nostri telespettatori sei pronto prontissimo ecco noi prima di andare a ascoltare fabio io farei partire questo video introduttivo per non compromettere la tua tranquillità al volante verifica l'efficienza della tua vettura e viaggia sereno il mio meccanico punto pro ti spiegherà come prenderti cura della tua auto sono pietro meccanico punto pro se in auto la tua vettura non ne vuole sapere di partire potrebbe essere colpa di candele o candelette usurate la loro importanza viene spesso sottovalutata la manutenzione è da fare per esempio quando ti accorgi che la tua auto non tiene il minimo oppure se ti rendi conto che consuma più del solito o se l'accelerazione avviene a stento una buona abitudine far controllare la loro efficienza ogni 10.000 chilometri nell'officine punto pro utilizziamo sempre candele e candelette di qualità originale equivalente per mantenere valida la garanzia della tua auto l'efficienza è importante oggi vorrei parlare di candele e candelette bosch che ne dice antonio parlare di qualità è sempre un'ottima idea infatti con una lunga esperienza nel campo dell'iniezione gli ingegneri bosch progettano candelette innovative per tutti i tipi di motore che oltre a garantire gli avviamenti a freddo mediante il preriscaldamento tramite la funzione post incandescenza garantiscono anche un funzionamento lineare di comfort per tutti i range di carico ma la gamba di ricambi bosch si compone anche di candele vero e alle candele bosch si affidano importanti team motorsport bosch porta innovazione ed esperienza dalla pista alla strada in questo modo gli automobilisti possono beneficiare delle alte prestazioni garantite dall'alta qualità delle candele bosch viene a scoprirle da punto pro metterci alla prova conviene bosch è un brand come abbiamo visto molto conosciuto in diversi settori del mercato ma oggi con fabio vogliamo chiederle appunto quale prodotto ci vuoi consigliare a noi automobilistici a tutti i nostri telespettatori a tal proposito che seguono il moto sport oggi vi parlo delle candele bosch sappiamo benissimo che nel mondo motorsport ci vengono richieste delle prestazioni in continua crescita noi come bosch continuiamo ad investire in ricerca e sviluppo proprio per soddisfare queste esigenze la tecnologia che viene prodotta viene poi trasferita sul mercato dell'indipendent l'indipendent aftermarket per che viene appunto utilizzato per dalle persone di tutti i giorni sulle proprie vetture allora noi abbiamo visto il video prima bisogna stare molto attenti a queste a queste cose sono molto importanti tu ad esempio che rapporto hai con la tua vettura ma la fai cerco io viaggio tantissimo con la mia auto quindi cerco sempre di mantenerla in uno stato buono almeno buono possibile e spesso e volentieri sia stata vostra cliente quindi la sicura certificazione della vostra auto è da punto pro naturalmente oggi vi parliamo di candele oggi quali sono fabio le caratteristiche che devono necessariamente avere le vostre candele bosch i veicoli moderni devono soddisfare esigenze crescenti sono giudicati in base a diversi fattori come risparmio di carburante basse emissioni e divertimento alla guida questo è il motivo per il quale molte case automobilistiche fanno affidamento sul brand bosch bene quindi siete anche sensibili all'ambiente esatto benissimo mi sembra di capire che oltre al mondo del motosport e delle case automobilistiche voi volgete anche al settore al settore automotive aftermarket spieghiamo un po di che cosa si tratta sì questo è corretto il mondo automotive aftermarket beneficia di queste tecnologie ecco perché le candele bosch sono disponibili in in diverse confezioni o comunque adattate per le esigenze del consumatore finale abbiamo anche disponibile un catalogo online per cui il rivenditore l'officina o il consumatore possono identificare rapidamente tutti i prodotti bosch specifici per ogni velicolo perfetto noi come stiamo vedendo dalle immagini cara valentina bosch non è solo candele ma siete un gruppo veramente molto molto importante molto grande esatto si è molto diversificata la bosch abbiamo differenti settori servizi e presenti in tutti i campi bene e naturalmente per voi automobilisti che volete magari ricercare qualche prodotto particolare potete andare su bosch punto it e lì avere tutte le informazioni del caso dico bene corretto esattamente quindi oggi abbiamo dato un'altra chicca importante ai nostri automobilisti ma anche a me stesso penso anche la nostra valentina perché tenere bene la propria auto importante per se stessi ma anche per gli altri e oggi grazie a bosch abbiamo avuto veramente delle chicche importanti per seguire soprattutto la manutenzione delle proprie candele naturalmente rivolgetevi a punto pro che sono delle 1400 officine in tutta italia andate su punto pro punto it e trovate quella più vicina a voi io volevo ringraziare veramente tantissimo fabio marangoni grazie mille a voi grazie fabio e la nostra valentina buonariva grazie richi e grazie a voi per seguirci sempre voi rimanete su queste frequenze e grazie per averci seguito questo programma è stato offerto da ufficine punto pro metterci alla prova conviene